Il tramonto del 15 febbraio 2020, dalla Battigia. Altezza sul livello del mare, 33 centimetri. Aspettiamo il contatto con la linea dell'orizzonte per vedere se è presente o meno il miraggio. Il sole risulta sovraesposto. Qui prova un po' a diaframmare, si vede quanto è schiacciato la torna. Del sole. Qui prova un po' a diaframmare. Alla prossima. 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 chi mette il diaframma cambia l'esposizione è un po' di diaframma ma... questo peggiora la situazione super sovraesposto è un po' di più Grazie a tutti. E' sparito, è davvero bello. C'è ancora luce all'orizzonte, ma non è la luce del sole diretta. Dispositivo per l'altezza, l'orizzonte. Grazie. 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 Grazie.